C'è un luogo in cui giungono i ragazzi da ogni parte d'Italia per mettersi in competizione e quando in gara ci sono i ragazzi, si sa, è sempre una gran festa, anzi io direi un gran palo. Sai cantare? Sai ballare? Ho una storia a raccontare? Dal nord al sud ci sono tante regioni ed almeno due buone ragioni per divertirsi insieme. I 150 anni dell'unità d'Italia da festeggiare e il gran palio delle regioni, dove partecipare è già vincere. C'è il gran palio delle regioni, tante sono le emozioni che puoi provare insieme a noi. E allora canta, non ti fermare, balla, racconta una storiella, racconta quel che vuoi. Vieni che qui la vita è bella, ti sentirà una stella, divertiti con noi. Lo so che è ancora presto e poi non c'è il contesto, ma il primo batticuore mi devo preparare. Choco dance del cioccolato, gianguiotto pre-livato. Per partecipare al gran palio delle regioni, non c'è bisogno di grandi doti, basta un pizzico di intonazione, una carica di simpatia e la voglia di conoscere tanti amici nuovi. Ve lo dice anche Italo. Ciao sono Italo e sono l'asinello del gran palio delle regioni. Cos'è il Gran Paglio delle Regioni? Ma è un concorso per tutti voi bambini! Se sai cantare, ballare o hai una storia da raccontare, allora puoi partecipare! Chiava il Nuovolo Verde oppure visita il sito che appare in sovraimpressione e potrai partecipare anche tu alla prossima edizione del Gran Paglio delle Regioni! Ciao, ciao Bucco Pallino!